Siamo qui tutti insieme seduti su questo divano per raccontare che dall'8 al 17 aprile al Teatro San Babila Che cosa vai? C'è la? Ciò che vide il maggiordomo di Joe Orton Ah e cosa vide il maggiordomo? Strani medici Strani pazienti e strane donne Strani fattorini Una strana clinica Ragazzi dobbiamo riprendere la prova, ci vogliamo muovere? Oh mamma mia E vi aspettiamo E qui ci saranno le cure per tutti voi Dall'8 al 17 aprile Teatro San Babila